Chiostro dei padri redentoristi, ci troviamo a due passi dall'ospedale Orlandi, siamo a Bussolengo, ULSS 22, consultorio familiare, per parlare del laboratorio di parole. Una frase importante, iscrivere vostro figlio ad un gruppo di parole è un'opportunità per lui di vivere meglio le trasformazioni familiari che state attraversando. Questa è una frase di Marie Simone a cui è ispirato questo laboratorio di parole. Il progetto nasce per dare un aiuto, un sostegno in qualche maniera alla famiglia nel momento della sua trasformazione, perché spesso si pensa che i bambini non riescano a capire e quindi non gli si spiega quello che sta avvenendo in famiglia. In realtà i bambini avvertono benissimo che sta avvenendo un cambiamento, ma non riescono a darsi la ragione e a spiegarsi quello che sta avvenendo. E come si concretizza? I gruppi di parole si concretizzano in un ciclo di quattro incontri, della durata di due ore ciascuno. Hanno una cadenza settimanale. I bambini sono accompagnati presso il consultorio familiare dei propri genitori e accolti da danno gli operatori. Segue ovviamente una proposta loro di riflessione, riflessione sui temi della famiglia e sui temi della separazione. Si propongono loro delle attività creative, questo attraverso il disegno, attraverso il gioco, che sono ovviamente delle attività finalizzate a una riflessività sul tema della famiglia e della separazione e ovviamente intervallate anche da momenti un po' più ricreativi, altrimenti ovviamente questi temi rappresentano anche per i bambini stessi un motivo di tensione, perché parlano di loro, ma parlano di un'esperienza che ovviamente li coinvolge parecchio emotivamente. Attraverso un percorso che viene proposto, ritmato in quattro incontri in cui si vanno sviluppando sempre del tema della famiglia dei sottotemi, quindi lo stare insieme nell'ambito della famiglia unita, la condizione di litigio dei genitori che può portare alla separazione e con i bambini si trattano, le conoscenze che riguardano per esempio cose che i bambini sentono in casa, quindi gli avvocati, il giudice, il tribunale, la divisione in due case diverse, una del papà, una della mamma, il fatto che loro si trovano a dover vivere gli spostamenti dalla casa della mamma alla casa del papà, le frequenze diverse di contatto con ciascuno dei genitori. La risorsa del gruppo è importante perché permette ai bambini di sentire dal proprio amico cosa ha vissuto lui, quali strategie ha potuto mettere in campo e nello stesso tempo è aiutato o può aiutare chi come lui sta vivendo questo difficile momento. È uno scambio di esperienza, è rivolto a bambini di che età? I bambini che partecipano ai gruppi hanno dai 6 ai 12 anni.